Ed ora passiamo invece a parlare di salute, una rubrica da voi molto seguita, curata dal dottor Madeischi. Vediamo adesso appunto 3 minuti per la tua salute. Benvenuti a una nuova puntata di 3 minuti per la tua salute, il programma di Piavi TV che parla dei problemi della nostra e della vostra salute. Abbiamo, come vi avevamo anticipato la volta scorsa, sempre l'autor Andrea Della Pupa, che è un anestesista e che oggi ci parlerà proprio di quello che fa lui, cioè di quali tecniche usa per la terapia del dolore o della medicina. Assolutamente. La medicina del dolore, la terapia del dolore ha sviluppato negli anni, grazie anche allo sviluppo della tecnologia, delle tecniche molto efficaci per curare il dolore che decenni fa sembravano improponibili. perché fino a 20-30 anni fa conoscevamo soltanto farmaci più o meno forti, dalla morfina agli antinfiammatori, oppure alcune tecniche che erano demolitive di nervi, radici nervose o parti del midollo spinale, ma che venivano però soltanto praticati in quei malati che non avevano altra speranza, cioè il melato oncologico terminale. Invece ai giorni nostri attualmente si possono fare tante cose anche per i pazienti che non hanno malattie così gravi, cioè malattie che segnano la vita. E queste tecniche praticamente si svolgono andando a fare degli interventi sulla parte che porta il dolore al cervello, cioè sui nervi sensitivi che sono interessati e che portano le sensazioni del dolore che poi noi sentiamo. Queste tecniche sostanzialmente ce ne sono diverse. Una che attualmente io sto utilizzando molto, con ottimi risultati, è la radiofrequenza pulsata dei gangli spinali. Vedo che ti seguono, vivemo da Milano, da Monza, vengono pazienti. Sì, devo dire che i pazienti stanno seguendo parecchio. Lui si due da Napoli, da... Sì, anche dalla Sicilia, sì è vero. E effettivamente perché sono delle tecniche efficaci che richiedono un minimo stress fisico per il paziente, quindi non sono tecniche per cui dopo il paziente ha punti, ferite, cicatrici. Il paziente può essere mobilizzato subito dopo la procedura e hanno un effetto piuttosto importante nella riduzione di quello che è il dolore, soprattutto quello da radici nervose. Parliamo di lombosciatalgie croniche, parliamo di dolore del trigemino, parliamo di cervicobrachialgie importanti che non hanno indicazione chirurgica, quindi non sono da dare al neurochirurgo, ma che però fanno vivere male comunque la persona e il paziente perché questo tutti i giorni ha delle difficoltà nella propria vita. Effettivamente li vedo poi che vanno via giorno dopo bene e si alzano. Ecco, un'ultima cosa così tecnica, in termini molto semplici. Cosa è che metti un cateterino e... Sì, sostanzialmente si accede di solito, lo spazio a cui si accede più frequentemente è la colonna vertebrale al suo interno, quindi di solito si va a inserire queste strumentazioni che sono dei cateterini o dei particolari introduttori degli aghi speciali, nello spazio peridurale dove c'è l'origine delle radici nervose e l'origine di queste cellule sensitive che sono i gangli spinali, che danno origine alla prima fibra nervosa che poi porta la sensibilità al centro, quindi al midollo spinale e poi al cervello. Questi gangli spinali sono particolarmente sensibili all'effetto di alcune metodiche, tipo la radiofrequenza pulsata, che in altro non è che una fonte di onde elettromagnetiche che genera calore, associata a dei certi voltaggi elettrici che vengono a influenzare probabilmente soprattutto quelle fibre più piccoline che ci sono nelle radici nervose che sono poi quelle coinvolte nella trasmissione del dolore. Avete capito che tipo di terapia viene fatta e possiamo annunciare che è già iniziato anche l'ambulatorio da noi. Io ringrazio il dottor Dallapupa e eventualmente in futuro lo avremo ospite ancora e noi ci vediamo la settimana prossima con un altro ospite.